Ringraziando il collega, amico, deputato Dino Alberti per avermi implicitamente citato quando ha detto non ci vuole un ingegnere per capirlo. Purtroppo sono ingegnere come lui e forse qualcosa ho capito. Quindi, Presidente, davvero, le chiedo di seguirmi, Presidente, le chiedo di seguirmi perché ho bisogno del suo aiuto, perché davvero sono cose che un ingegnere non può capire, perché sono talmente surreali che davvero, davvero, forse lei che appunto non è ingegnere come me, purtroppo, lo capisce meglio. Allora, l'anno prima dell'anno scorso, cioè due anni fa, di notte, ripeto, di notte, fu votata, no, sicuro sì, fu fatta la finanziaria del 2013, regalando 19 miliardi allo Stato. Quest'anno, sempre di notte, perché appunto abbiamo ricordato che anche se le luci sono sempre quelle, sono le dieci, in questo decreto sul fallimento, decreto sul fallimento, ne sono stati regalati altri. E allora lei si chiederà, Presidente, quanti sono stati regalati quest'anno? Eh non lo so, non si sa. Pensi che anche la commissione bilancio della Camera ha chiesto spiegazioni né al Governo. Io non lo so, ma nessuno, nessuno ci vuole dire a quanta monta. Sa, Presidente, io so, lei sa, i colleghi sanno, gli italiani probabilmente sanno che l'anno scorso, come due anni fa, io feci un intervento dicendo, e quindi invito i cittadini italiani a rivederle le volte passate, quando l'ho detto, ma loro dico. Testuali parole, eh, dissi. Di notte lavorano due categorie di persone, o le prostitute o i ladri. E chiedo scusa alle prostitute, spesso soggette a schiavitù, per averle paragonate ai politici italiani. Ora, io vedo che qui è presente solo il sottosegretario e da quello che so non può mettere la questione di fiducia. Ma immagino, immagino, io immagino che la vengano a mettere subito dopo che finiamo di parlare. Ora, io non voglio dire, ma mi aspetto che non ci sia nessun ministro donna in quest'Aula, perché sennò non vorrei che fossero abbinati i due discorsi. Quindi, davvero, chiedo a un uomo di venire da... Mi dica, mi dica, mi dica. Lei deve usare un linguaggio e non fare allusioni, perché oltretutto sono irrispettose, non solo nei confronti del ministro, ma anche nei confronti della persona. Onorevole Dallosso, le sono rimasti pochi secondi e la prego di concludere in modo... Ma certo che sono irrispettose, le prostitute, ma che cavolo! Onorevole Dallosso, non mi costringa a togliere la parola. Guardi, la tolgo io. Bene, grazie. Grazie.